Mi disse che cosa vuol fare in Tunisia? Ma in Tunisia noi vogliamo costruire una raffineria. Dice voi non farete la raffineria perché la faremo noi, noi con una delle altre delle sette sorelle. E gli dissi molto umilmente, gli chiesi, cosa ne pensasi invece di farli in due, se si facessi in tre? Gli disse no. E allora io lo guardai e gli dissi, io ho l'impressione non abbiamo più niente da dirci, però dico lei il colloquio di oggi se lo ricorderà per tutta la vita, perché noi siamo dei poveri, abbiamo bisogno di lavorare. A questo punto ci lasciamo. Io disse al giovane ingegnere che mi accompagnava, visto che egoismo terribile, è il potente, se lo ricordi per tutta la vita. Io ho visto insieme d'altra parte le società inglesi, americane, olandesi, francesi, belgi, tutti uniti contro di noi. Due volte credevo di aver perduto, poi ripresi forza, poi abbiamo vinto. Perché abbiamo vinto? Perché abbiamo posto delle condizioni che sono molto più umane. Perché facciamo un'associazione al 50% con l'altro paese, che viene a partecipare al proprio lavoro nel proprio paese, non entriamo più come degli estranei. E tutto questo porterà per il nostro paese, anche per la collaborazione economica e politica, porterà dei vantaggi.